In principio tutto ciò che vedi non esisteva. C'era solo il cristallo. Il cristallo della vita. Sun, perché mi stai portando alle montagne dolenti? Tu devi essere portata da Saguna. E questa è la mia missione. Sto cercando la ragazza dai capelli bianchi. Reincarnazione di un'anima. Non sei di molte parole, vero? Di solito la gente non parla con me. Io sono sola. Mi servirai. Che cosa sono io? Sei l'unita speranza per questo mondo. Tutti meritano una seconda opportunità. A causa tua ho perso qualcuno di speciale. Ma ora... lo riporterò da me. Tutti hanno perso qualcuno quel giorno. Una volta arrivati dal titano... che ne sarà di me? non farle vedere il sangue. Rubò i coaco. Lo hai visto anche tu. Il cristallo è già puro. Che facciamo? Un legame di sangue tra il corpo e l'anima. non ti permetterò di prendere il cristallo! Non ti permetterò di prendere il cristallo! Non avrai mai pensato di rivedere un umano. Non vissi! No. Non vissi? Grazie.